Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti alla stessa festa dove c'erano Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore. L'incontro tra le due coppie è avvenuto in queste calde giornate di agosto, in occasione della festa di compleanno di Gianluca Vacchi, organizzata in Sardegna. Un vero e proprio evento testimoniato sui social dai vari invitati tra cui anche la coppia dei prelemi, nata quest'anno all'interno della casa del grande fratello Vip 5, dopo che Pretelli aveva stretto un rapporto di amicizia speciale con la sugarl calabrese. La coppia dei prelemi nella serata del 5 agosto ha partecipato alla lussuosa festa, il compleanno di Gianluca Vacchi, organizzata in Sardegna. Tra i presenti spiccavano anche Elisabetta Gregoraci, accompagnata dal suo ex marito Flavio Briatore, con il quale si vocifera che potrebbe essere in corso un ritorno di fiamma. Ci sarà stato uno scambio di saluti tra i tre protagonisti dell'ultimo grande fratello Vip oppure si saranno ignorati? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.